Allora, molto brevemente, anche per quanto riguarda il concetto del mobbing, dobbiamo rilevare che già la definizione di mobbing, cioè come era stata posta la domanda, è incompleta in quanto vediamo che manca l'indicazione proprio che, come sappiamo tutti quanti, per poter parlare di mobbing ci sia una precisa volontà di discriminazione nei confronti dell'individuo e che poi la reiterazione degli atti discriminatori sia prolungata nel tempo. Comunque andiamo un attimo a guardare chi è che ha detto, ha percepito di aver subito delle azioni di mobbing. Intanto diciamo, come al solito, abbiamo un totale di 626 rispondenti e di questi il 19,8% pensa di aver subito degli atti di mobbing. Vediamo quindi che sostanzialmente però questa risposta positiva alla domanda A04, quella relativa al mobbing, secondo noi evidenzia soprattutto delle condizioni di scarsa soddisfazione personale, di mancata realizzazione professionale e di sofferenza diffusa. Diciamo che il profilo tipico di chi dichiara di aver subito atti di mobbing è un dipendente che ha un'età compresa tra i 41 e i 50 anni, un titolo di studio alto, quindi laurea specialistica e o dottorato e un'anzianità di servizio tra 11 e 20 anni. Tutte caratteristiche che ben si adattano a quella che è la realtà di un nostro ente, che è un ente di ricerca, tra l'altro con personale piuttosto anziano. Vediamo che gli item che sono collegati alla percezione di mobbing, ne abbiamo messo qualcuno, la possibilità di carriera, a conferma di quello che è stato detto fino adesso, quello che può indurre una persona a pensare di subire atti di mobbing, può aver indotto a pensare di aver subito atti di mobbing, che è il fatto che lo sviluppo professionale in questo ente non è chiaro, poco o per nulla e soprattutto che la carriera, la possibilità di avanzamento di carriera è poco o per nulla legato al merito. Il lavoro, quindi caratteristiche del lavoro, la mancata adeguatezza del lavoro svolto al proprio profilo professionale, la mancata o scarsa autonomia nello svolgimento del proprio lavoro o il fatto di essere poco o per nulla valutato in base ad elementi importanti per il proprio lavoro. Quindi sto riassumendo che sono le caratteristiche che hanno portato quel 19,8% di rispondenti a pensare di aver subito atti di mobbing. Oppure i rapporti con i colleghi di lavoro, di questo ne abbiamo già parlato, il fatto che per esempio posso essere il 49,2% di quel 19,8% pensa di essere stimato poco dai colleghi o addirittura che l'informazione non viene messa sufficientemente in condivisione tra i colleghi, l'informazione relativa al lavoro. Ricordiamo che l'isolamento professionale a questo proposito è una caratteristica molto importante del fenomeno di mobbing in quanto quando questo è interpretato con continuità a discapito del singolo, il singolo viene isolato, non gli viene fornita adeguata informazione sul lavoro, viene messo da parte o addirittura non gli viene proprio fornito il lavoro. Questo sappiamo che è un'indicazione abbastanza precisa per il mobbing, quindi probabilmente quelle due domande a cui ho fatto riferimento prima hanno un po' indirizzato la risposta di quelli che hanno dichiarato di aver subito atti di mobbing. In ultimo il rapporto con il capo, ma il capo ha anche inteso non solo come il capo diretto secondo noi, ma anche proprio come tutta l'organizzazione, quindi da quelli che appunto hanno indicato, hanno percepito di aver subito il mobbing, il 32% pensa che il capo poco lo aiuta a capire quali sono, come poter raggiungere gli obiettivi, il capo sempre per questa fetta di persone è poco sensibile ai propri bisogni personali e anche qui ritorna il concetto dello scarso riconoscimento dell'aver compiuto bene il proprio lavoro. Quindi concludendo brevemente sulla scorta di quello che noi abbiamo potuto esaminare e partendo proprio dal presupposto che comunque la domanda era forviante per poter indicare casi di mobbing, non possiamo trarre conclusioni né in un senso né in un altro, sicuramente non si può affermare che ci siano casi di mobbing conclamato all'interno dell'ente, però non possiamo escludere che ci sono dei fenomeni di malessere diffuso che possono comunque indurre il singolo a percepire invece di subire atti assimilabili a tale formulazione, quindi a poter dire di aver subito del mobbing. Chiaramente il fatto di aver formulato questa domanda in modo non… già la tematica del mobbing è di difficile, come ha detto anche la consigliera di parità, non esiste una giurisprudenza e poi comunque è di difficile formulazione ed è oltretutto di difficile individuazione, di individuazione molto controversa. Poi oltretutto questa domanda non era nemmeno insomma completa, quindi le risposte non devono essere prese come bianco o nero. Ecco, anch'io ho concluso, spero di essere rientrata nei tempi, comunque trovate ecco, come ha detto Adele, la trattazione diciamo sia proprio sul rapporto, ma poi abbiamo anche una trattazione diciamo una presentazione più estesa che possiamo mettere in rete. Grazie.